non tutti i giorni si vince con non tutti i giorni si vince e poi non tutti i giorni si vince con la maria rossa quindi sai per rispetto alla maria rossa avevo un po di tempo per togliermi la la mantellina e farla farla vedere no dovevo farlo volevo farlo però comunque era più un devere di far vedere la maglia rossa il ciclista che mi viene in testa sempre con la maglia rossa e pantani l'ho detto già parecchie volte e dei corridori che mi piacciono di più però è un dato curioso a casa mia non ho neanche foto di me in bicicletta neanche non mi piace avere niente di me sulla bicicletta ma ho una caricatura di pantani quindi è l'unico che ho di biciclismo a casa mia quindi sai mi parlano di giro e ciclismo e mi viene pantani